Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Sono qui con un bellissimo video su Oje Gokberk. Prima di passare al nostro video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. Grazie in anticipo. La notizia che la famosa attrice Oje Jagiz ha proposto di sposarsi a Gokberk Demirci ha creato grande sorpresa ed eccitazione nel mondo della rivista tra i fan. Ecco altri dettagli su questo interessante sviluppo. Come Oje Jagiz e Gokberk Demirci, due dei noti attori del mondo televisivo turco, la loro vita privata e le loro relazioni nel contenuto, non lo so, sono state seguite da vicino dai media e dai loro fan, e la loro collaborazione di successo in particolarmente apprezzata la serie tv Yemen. La notizia che Oje Jagiz ha proposto a Gokberk Demirci dimostra quanto sia seria la relazione della coppia e che stanno progettando un futuro insieme. Tali citazioni spesso mostrano quanto siano forti i legami emotivi dei turchi. È usato per esprimere il loro amore e rispetto reciproco. Anche il mondo della rivista e dei suoi fan ha accolto con grande curiosità ed emozione questa proposta di matrimonio a sorpresa. Mentre l'uomo di Oje Jagiz ha suscitato alcune speculazioni sul futuro della relazione della coppia, la risposta di Gokberk Demirci e i progetti matrimoniali della coppia sono diventati argomenti molto attesi. Auguriamo a Oje Jagiz e Gokberk Demirci felicità e una nuova vita insieme. La nostra coppia ha dei fan ed è certo che continueranno ad essere seguiti con interesse dai media. Grazie per aver guardato il mio video. Spero di vederti in nuovi video. Arrivederci!